eccoci qua ragazzi per questo nuovo video oggi parto dal ponte di legno dove ieri appunto sono stato per la hat sirius hat adventure fest punto di ponte di legno ho provato qualche moto oggi è domenica e rientrerò verso casa facendo il tonale visto che gavia ancora chiuso volevo fare gavia o mortirolo passo san marco però anzi volevo fare gavia mortirolo e vivione però il gavia è chiuso quindi niente il posto dove si tiene la hat adventure fest eccoci qua ragazzi eccoci qua ragazzi passo del tonale 12 gradi ragazzi a freschetto comunque al pascolo e via la natura ragazzi siamo sul passo folgarida diciamo passo carlo magno strada bellissima a 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 eccoci qua arrivati anche al passo di croce domini e spettacolo 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 bello 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 che ragazzi si scende dal passo di croce domini davvero davvero spettacolare se vi è piaciuto questo video ragazzi vedete un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao a 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